Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Natalia Titova e la malattia che ha di fatto stroncato la sua carriera Ne ha parlato la stessa donna nel corso di un'intervista.Ci sono programmi a cui il pubblico è particolarmente affezionato, soprattutto perché aperti a tenere compagnia praticamente a tutti Alcuni format sono dedicati ad un pubblico molto vasto, e così sono tantissime le persone che seguono alcuni programmi che vanno in onda sulle tv generaliste Tra questi, uno dei più seguiti ed emblematici è senza dubbio Ballando con le stelle, che da tantissimi anni tiene compagnia a tante persone e rappresenta uno dei cavalli di battaglia del RAI Natalia Titova. Tantissimi volti noti nel mondo dello spettacolo, dello sport o della musica si sono avvicendate all'interno del programma condotto da Millie Carlucci, per mostrare le proprie abilità danzanti davanti al pubblico televisivo che fino alla fine resta incollato al programma anche per capire chi arriverà alla vittoria finale E così l'emittente pubblica ha scommesso tantissimo in questi anni per costruire dei cast sempre accattivanti e che fossero in grado di attirare una mole di pubblico sempre più grande Ruoli fondamentali li hanno avuti anche i ballerini professionisti che hanno prestato le proprie carriera nel mondo della danza per porsi al fianco di vari personaggi famosi Tra questi, una delle donne che ha mostrato grandi capacità nel corso della sua esperienza ballando con le stelle è senza dubbio Natalia Titova, che proprio durante il programma condotto dalla Carlucci ha svolto il ruolo di insegnante di ballo Natalia Titova, la sua carriera fermata dalla malattia.In Italia la Titova ha avuto la possibilità di esprimere tutte le sue capacità ed il suo talento Ballando con le stelle, chiaramente, è stato il programma che le ha dato modo di avere grande visibilità Poi il mondo del gossip, visto che la Titova da tanti anni ha una relazione con un altro personaggio noto di sport e spettacolo, Massimiliano Rosolino I due hanno anche messo su famiglia, con l'arrivo delle due figlie Sofia Nicole e Vittoria Sidney La carriera di Natalia, però, è stata praticamente fermata da una malattia che le ha impedito di continuare a ballare ad alti livelli Di cosa si tratta? Il ginocchio di Natalia è stato colpito da osteomielite, malattia che l'ha così portata ad appendere le scarpette al chiodo È stata la stessa Titova a raccontare tutto nel corso di un'intervista rilasciata qualche tempo al programma Vieni da me, al tempo condotto da Caterina Balivo Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao